La Giunta e il Consiglio regionale del Piemonte esprimono la propria vicinanza al dottor Jalali, arrestato nell'aprile 2016 in Niran e tutt'oggi detenuto. Dopo tre ordini del giorno per chiedere la liberazione del medico ricercatore, martedì 27 marzo, alla fine del Consiglio regionale, è stato srotolato uno striscione di solidarietà. È molto importante tenere alta l'attenzione sul caso di Amadrezza Jalali. A gennaio è stata chiesta la sospensione della condanna, ma la revisione ancora non è arrivata. Quindi la comunità internazionale deve continuare a battersi. Finalmente Amadrezza ha ricevuto anche il passaporto svedese e questo ci auguriamo possa aprire nuove strade per arrivare a una buona risoluzione di questa situazione. La battaglia per i diritti di una persona sola coincide con la battaglia di tutti i cittadini. Ecco perché è importante battersi anche solo per questo caso. Il Consiglio regionale e la giunta regionale del Piemonte aderisce alla mobilitazione per salvare il dottor Jalali Amadrezza, un medico ricercatore iraniano condannato a morte perché è accusato di essere una spia ed è detenuto nel carcere di Tehran in Iran. Il Consiglio regionale si è impegnato su tutti i fronti per rispondere alla mobilitazione per salvare il medico ricercatore che tra l'altro ha lavorato dal 2012 fino al 2015 nella Università del Piemonte Orientale.